Ultimo impegno in Rai per Amadeus, che questa mattina ha condotto in diretta su Rai 1 Arena di Pace, evento che ha richiamato 10.000 persone all'Arena di Verona davanti a Papa Francesco. Ultimo impegno Il conduttore, visibilmente emozionato sul palco, ha avuto l'opportunità di incontrare per qualche minuto il pontifice e stringergli la mano. Il conduttore, visibilmente emozionato sul palco, ha avuto l'opportunità di incontrare per qualche minuto il pontifice e stringergli la mano. Molto credente, Amadeus non ha trattenuto la commozione. Grazie Papa Francesco ha scritto su Instagram, dove ha condiviso la foto. Insieme a lui la moglie Giovanna Civitilo, anche lei emozionata ha aggiunto, il nostro cuore è pieno di gioia. Giovanna e Amadeus, insieme dal 2003, si sono sposati nel 2010 con rito civile, un anno dopo la nascita del figlio Hos. La coppia nove anni dopo, nel 2019, ha deciso di sposarsi anche in chiesa, proprio per consacrare il loro amore. Siamo entrambi credenti e questo si detto davanti a Dio per noi rappresenta la sacralità più profonda e definitiva. aveva dichiarato Giovanna dopo che Amadeus aveva ottenuto l'annullamento del primo mattino.